Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video allora vi ricordate questo e oggi lo coloreremo lasciate like e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina che poi perché così gli arrivano tutte le notifiche dei video che faccio ovviamente anche oggi con i capelli corti e quindi iniziamo a colorarle ve lo ricco le voglio colorare benissimo stavolta ok colori ce li ho qua vedete tutti a disposizione per disegnare ok quindi iniziamo a prendere il colore che voglio sempre per la si eccolo si ok raga poi vi faccio vedere tutti i risultati poi nel prossimo episodio vi lo dico che c'è nel terzo episodio vi dico che le ritaglierò veri no scherzo non le ritaglierò perché non so ritagliare vedete io c'ho queste forbicioni insomma anche polvere gialla vabbè comunque mi sto impegnando troppo a colorare ok ecco il risultato della app se non lo giro non si vede ecco il risultato della a tutta rossa ok la b azzurra credo che non cade ok la b azzurra raga mi sto impegnando proprio quello che voglio lo so che non vi guardo mai a voi perché sono impegnato queste cose ok ed ecco il risultato della b ecco qui la c di giallo raga voglio fare tutto perfetto non vuoi uscire fuori perché se no poi non so mi è brutto per la c fatta se volete ve lo giro pure così perché si è storto vabbè allora la di di verde lo vedete lo so questo verde è proprio verde normale però dalla telecamera non si vede che è normale è un po più chiaro ma dalla telecamera però non si vede anzi mi metto proprio qua qui vedete ok ok ecco qua ok la la f raga per ora la faccio blu ma consigliatemi dei colori con cui la posso fare raga la g arancione perché ce farò per i miei gusti ok ok fatto ok questo devo devo vedere un po ma non si vede un po male ma ne ha le acciondell'uica ed ecco la e per l'acqua ok comunque la i di che colore la facciamo beh ovviamente io sto andando a caso la faccio viola dai anche se è un pochettino chiaro va bene G anzi no, per non farlo vedere il start faccio voler come si chiama? ve le faccio vedere così ecco così vedete meglio grigio posso usare pure la matita dai qui ecco la matita raga 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 sto facendo un gioiellino poi raga faccio un po' tutto l'alfabeto poi faccio l'alfabeto fino alla z ok comunque guardate la j è andata bene la h di che colore la facciamo raga fatemi ci pensare fa vedere un po' i colori ah rosa non l'ho usato ok rosa ok raga la h di fucsia dai su che ci siamo quasi ok già sette minuti di registrazione stiamo andando benissimo raga vediamo se trovi col colore che voglio trovare la l che facciamo di viola scuro dai il viola scuro non l'ho mai usato il mio viola scuro raga dopo un pochettino di tempo vabbè facciamolo con questo qua verde acqua non so se prendere la telecamera credo che voi dalla telecamera vedete azzurro però verde acqua comunque raga ho visto qualcuno cioè perché io ero sette iscritti e ora sono apparsi sei iscritti perché vi riscrivete perché è gratis riscrivetevi senza costi comunque a quelli lì che sto che io ce l'ho con quello lì che sei disiscritto al mio canale allora la m di marrone direi di sì marrone vedi pure m di marrone vedete ok l'ultima che è la m la facciamo di sto colore comunque vi faccio vedere il risultato alla fine allora raga finito il risultato ve lo sto per far vedere ve lo sto per far vedere ok ho finito guardate 3 2 1 ok vi piace allora raga lasciate like iscrivetevi al canale per un nuovo video e mi raccomando non vi dis iscrivetevi se non mando un ladro a rubare casa vostra mando un ladro che anche se avete un cane lo spara comunque ci vediamo al prossimo video ciao